Jacopo Segre, sabato ripartirà il campionato dopo la sosta forzata, partendo dalla scorsa settimana sotto quali aspetti avete lavorato maggiormente in vista del prossimo impegno a Brescia? Abbiamo cercato assolutamente di non perdere minutaggio di partite, quindi abbiamo lavorato molto sotto l'aspetto fisico e soprattutto anche dei tempi delle partite, dei minuti e mettere anche sotto forma di possesso e non possesso le fasi che affronteremo con la partita di sabato a Brescia. Sabato la Spal sarà chiamata a riscattare la sconfitta contro l'Ascoli dello scorso 16 aprile, dal tuo punto di vista cosa vi è mancato in quella partita dopo una serie utile che durava da quattro turni? Abbiamo sicuramente trovato una squadra ben organizzata che lo sta dimostrando ma noi purtroppo dovevamo essere anche più cinici sotto porta però adesso appunto questo campionato è difficile, lo sta dimostrando ogni partita dopo partita e però ci sarà l'occasione di rifarci perché dobbiamo portare a casa i tre punti già da sabato a Brescia. Sono trascorsi tre mesi dal tuo arrivo a Ferrara, quanto è stato importante per te ritrovare qui Salvatore Esposito e Lorenzo Dickman che avevi conosciuto nella tua esperienza al Chievo? Ma è molto molto importante perché mi hanno fatto integrare nel gruppo con tutti gli altri compagni, sono due splendide persone e due grandi giocatori e mi hanno aiutato molto, poi con loro avevo legato parecchio a Verona e mi hanno aiutato, infatti li ho ringraziati e sono molto molto felice. Nonostante la tua giovane età Jacopo possiamo già considerarti un veterano di questa categoria perché nell'ultima gara sei arrivato a quota 80 presenze in Serie B, a tuo avviso cosa differenzia questo campionato dagli altri che hai disputato con Venestia e Chievo? Beh sì, sono molto felice per questo traguardo, è un campionato diverso perché ci sono squadre ben attrezzate per fare il salto di categoria e ogni partita è una battaglia sia contro le ultime che è contro quelle in metà classifica ma anche e soprattutto contro le prime, è un campionato veramente di alto livello e bisogna farsi trovare sempre pronti perché la partita dura 90-95 minuti e può succedere di tutto perché la palla rotonda ma dobbiamo essere più forti degli altri sempre. Jacopo sono arrivate per te anche alcune domande dai nostri tifosi via social, la prima domanda è di Alessandro che ti chiede come ti immagini il primo gol a Ferrara. Innanzitutto ti saluto ciao Alessandro e saluto tutti i tifosi e lo sto aspettando, lo sto aspettando da tanto e non vedo l'ora di farlo perché sarebbe ancora più bello avervi qui allo stadio per risultare con voi però sto lavorando e sto cercando di farlo al più presto spero e spero arrivi. Francesco invece ti chiede chi è il tuo idolo? Il mio idolo, i miei idoli sono sempre stati Beckham e Kakà, il primo fortunatamente l'ho conosciuto a un evento a Milano e ho scambiato due parole in inglese con lui per quello che potevo parlare e è veramente stato il mio idolo insieme a Kakà perché sono stati due giocatori che hanno rappresentato il calcio e quindi mi ispiro. Giovanni ti chiede chi sono state le persone più importanti nel tuo percorso da calciatore? Beh no, sicuramente devo ringraziare la mia famiglia che è stata sempre vicino a me e anche la mia ragazza e poi tutti gli allenatori, tutti i compagni che mi hanno aiutato a superare sempre anche degli ostacoli perché nella vita calcistica come nella vita normale si trovano purtroppo gli ostacoli quindi bisogna avere la testa e la forza di superarli e poi essere umili ad andare avanti e anche nei momenti più felici a lavorare e continuare a lavorare ogni giorno. La domanda di Marco che ti chiede del tuo ruolo in campo quali sono gli aspetti che ti piacciono maggiormente? Attaccare la porta, inserimenti, sono una mezzella che appunto piace attaccare ma anche lo stesso difendere perché sono importanti tutte e due le fasi di gioco e ripeto mi piace fare gol e spero di ritrovarlo presto e basta. Jacopo chiudiamo con la domanda relativa al campionato, il prossimo impegno contro il Brescia a Stadio Rigamonti per la 35esima giornata, che avversario ti aspetti? Sicuramente sarà una partita difficile, molto difficile perché mancano soprattutto quattro partite alla fine del campionato e quindi ripeto bisogna farci trovare pronti perché questa sosta ci ha permesso comunque di recuperare energie ma nel frattempo rimanere concentrati, sarà un avversario che cerca di entrare nei play-off e bisogna andare con l'atteggiamento giusto per fare la partita e bisogna appunto portare i punti a casa perché in questo momento per noi sono fondamentali. E poi vi attende un tour de force fino al termine della stagione? Assolutamente, sarà un tour de force dove ci sarà bisogno di tutti, si giocherà ogni tre giorni, farà caldo, si giocherà alle due e sarà veramente un tour de force pazzesco dove bisogna tenere le energie alte e recuperarle al più presto perché non c'è neanche tempo di respirare.